L'amore estivo di Chiara Ferragni sembra essere giunto al termine. Dopo mesi di voci e indiscrezioni su una presunta relazione con Silvio Campara, CEO di Golden Goose, sembra che la storia tra i due sia finita. Secondo i rumors riportati da Gabriele Parpiglia sui social, Chiara voleva rendere pubblica la relazione, ma Silvio, già impegnato con Giulia Lucchi e padre di due figli, ha preferito tirarsi indietro. Dopo mesi di speculazioni, sembra che l'amore segreto tra Chiara Ferragni e Silvio Campara sia giunto al termine. Nonostante non siano mai emerse foto compromettenti, alcuni dettagli come una giacca vintage della Ferrari indossata da Chiara avrebbero fatto pensare a una relazione tra i due. Tuttavia, secondo Parpiglia, la storia è giunta al capolinea. Nonostante non siano emersi dettagli sul motivo della rottura, sembra che Chiara volesse rendere pubblica la relazione, mentre Silvio preferiva mantenere tutto riservato. Nel frattempo, Fedez sembra aver trovato una nuova fidanzata, Vittoria, con cui ha trascorso il suo compleanno. Nonostante la fine della relazione tra Chiara e Silvio, sembra che ci sia ancora rispetto reciproco tra i due. prove. Nonostante la mancanza di prove concrete, sembra che la storia sia giunta al termine. Intanto Fedez sembra aver voltato pagina con una nuova relazione. Mentre chi è vero? È giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto.